Il telescopio spaziale James Webb ci ha regalato un altro risultato straordinario, questa volta ha a che fare con la velocità con cui il nostro universo si sta espandendo. Questo nuovo risultato del James Webb è stato reso possibile grazie all'osservazione di questa immagine, che rappresenta uno dei fenomeni più incredibili dell'universo, la lente gravitazionale, in cui l'enorme gravità di un ammasso di galassie, rappresentato da tutte queste galassie bianche, è in grado di distorcer e deformare lo stesso spazio-tempo dell'universo. Quello che succede è che la luce di una galassia distante, una volta che attraversa questa regione di spazio, viene a sua volta distorta e deformata, creando appunto questi archi luminosi, che nient'altro sono che le immagini distorte appunto delle galassie lontane. Concentriamoci su questo arco presente in questo quadrato bianco, vediamo la presenza di tre bulbi luminosi, che nient'altro sono che il nucleo della stessa galassia, che è distorta e deformata per tre volte, creando appunto questo lungo arco luminoso. Confrontando questa immagine con una più vecchia, ottenuta con il telescopio spaziale Hubble, hanno notato che nella nuova immagine del James Webb sono presenti questi tre nuovi puntini luminosi. Questi puntini luminosi rappresentano la stessa immagine di una supernova di tipo 1A. La supernova di tipo 1A è sostanzialmente una nana bianca che acquisisce materiale da una compagna vicina diventando instabile ed esplodendo. L'immagine di questa esplosione è replicata appunto in questo caso tre volte. Il punto è che queste tre immagini rappresentano la supernova in momenti diversi della sua vita. Perché? Perché quando la luce attraversa questa lente gravitazionale percorre cammini diversi, quindi le tre immagini si formano in momenti diversi. Conoscendo il ritardo nella formazione tra un'immagine e l'altra, conoscendo la fisica che sta dietro una lente gravitazionale, conoscendo la distanza di questa supernova e soprattutto conoscendo la velocità della luce, siamo riusciti a ricavare una stima molto precisa del tasso di espansione dell'universo. Noi sappiamo che il nostro universo si sta espandendo e lo sappiamo da circa un secolo, cioè da quando l'astronomo Edwin Hubble scoprì che galassie più distanti si allontanano anche più velocemente da noi. Questa sorta di proporzionalità tra la distanza di una galassia e la sua velocità di allontanamento espressa da un parametro chiamato costante di Hubble, che è fondamentale perché ci permette di ricavare in qualche modo l'età dell'universo. Fino all'inizio degli anni 90 l'incertezza sul valore della costante di Hubble era enorme, quindi anche sull'età dell'universo, che era stimata tra 10 e 20 miliardi di anni, una incertezza gigantesca. Quando venne lanciato il telescopio Spazial Hubble all'inizio degli anni 90, grazie alle sue osservazioni, ad esempio, delle variabili cefedi nell'universo locale, l'incertezza sul valore della costante di Hubble e quindi sull'età dell'universo si ridusse drasticamente. Questo valore però è stato calcolato in maniera indipendente anche da altri metodi usando altre osservazioni, per esempio lo studio della radiazione cosmica di fondo, l'eco-residuo del Big Bang, soprattutto tramite satellite Planck nelle microonde. Ora, la radiazione cosmica di fondo riguarda qualcosa che ha a che fare con l'universo primordiale, quindi l'universo quando era molto giovane. Il valore della costante di Hubble studiando la radiazione cosmica di fondo è risultato completamente diverso da quello ottenuto studiando l'universo locale. Due valori in apparente contraddizione tra loro che rappresentano uno dei più grandi misteri dell'astronomia moderna. Capite quindi che queste osservazioni, che usano metodi ancora diversi e osservazioni completamente diverse, sono fondamentali per capire dove possa essere il problema. In questo caso le osservazioni del James Webb confermano che il valore della costante di Hubble calcolato con osservazioni effettuate nell'universo locale, sembra essere effettivamente assolutamente attendibile. Qual è quindi la soluzione? Come sempre in astronomia, quando cerchiamo di avere la risposta a una domanda, quello che succede è che si aprono le porte a tantissimi nuovi misteri. Grazie.